Sto alla povertà. E' stato approvato l'accordo quadro territoriale che prevede misure di accompagnamento straordinarie per i lavoratori molisani in materia di ammortizzatori sociali in deroga. L'intento della Regione è quello di intervenire in una fase di transizione, in attesa dunque di rilanciare materialmente l'occupazione, grazie agli strumenti a disposizione, specie quelli derivanti dall'area di crisi complessa, al fine di garantire forme di sostegno ai lavoratori per le diverse situazioni occupazionali che si registrano in Molise. La concessione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga sarà accordata, fa sapere l'assessore regionale allo sviluppo economico Carlo Veneziale, per un ulteriore periodo di tre mesi, nel caso i destinatari abbiano già beneficiato dell'integrazione prevista dalla CIG nel corso del 2016 e per un periodo di sei mesi, nel caso di richiesta di prima concessione del trattamento. La mobilità in deroga sarà concessa per un ulteriore periodo di cinque mesi a coloro cui è scaduta o è in scadenza tra il primo gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017. Sarà di sette mesi se l'azienda è ricadente nel territorio di uno dei comuni compresi nell'area di crisi complessa. Abbiamo raggiunto un accordo di grande valenza dal punto di vista sociale, commenta l'assessore Veneziale. Le deroghe previste corrispondono ad un periodo congruo per consentire di mettere in pratica le politiche attive e da qui arrivare all'obiettivo per noi principale, che è l'effettivo rilancio occupazionale del nostro molise.